Claudio Borghi, dopo cinque anni dal nostro mitico primo video su YouTube, che ormai ha raggiunto quasi 500.000 visualizzazioni, lo sai? Eh, complimenti. Il video era come si esce dall'euro. Era un periodo storico in cui, soltanto a nominare queste ipotesi, si venivano giudicati pazzi. Nel frattempo sono cambiati i scenari politici, sono cambiati i giornali, gli editorialisti hanno cominciato a pubblicare dei pezzi timidamente, anche sul Corriere della Sera. Qualcuno ha cominciato anche a dire che, guarda un po', la sovranità forse è più importante dei tecnocrati finanziari e dell'economia. Ci sono dei nuovi scenari politici, fra poco ci sono le elezioni. La prima cosa che ti voglio chiedere è, a distanza di cinque anni, quel video che spiegava tecnicamente come si esce dall'euro, quel ragionamento è ancora valido? Innanzitutto diciamo una cosa, se siamo qua a parlarne adesso, dopo cinque anni, e sono argomenti attuali, significa che erano corretti. Perché se il punto fosse stato, non so, convincere qualcuno che è il cielo arancione, potevi farlo una volta e poi non valeva più. Invece diciamo che la prova della bontà di quanto detto in quel video non è tanto nella sua popolarità, magari ci può essere anche il video del gattino spiaccicato che fa tante visualizzazioni, ma un video tecnico di un'ora che ha provato poi che quegli argomenti sarebbero diventati, come si dice, mainstream, vale a dire un qualcosa di dibattito comune, è la prova di quanto corretto e quanto avanti sui tempi fosse. Cinque anni, cinque anni, una vita, capelli più grigi e qualcosa di sbagliato c'era comunque in quel video sicuramente, ed era sottostimare la capacità di resistenza del sistema. Cioè il sistema ha messo in atto delle forze potentissime e in parte anche scoprendosi, vale a dire per tenere il sistema hanno dovuto mostrare alcune carte. Il problema è che adesso con le carte in tavola diventa più semplice per molti capire. Quindi si sono salvati al momento, ma le domande che la gente comincia a porsi stanno diventando sempre più pressanti. Le domande attengono a questa cosa misteriosa che è la natura della moneta, la natura della creazione della moneta, la funzione della banca centrale. Tutte cose, sinceramente, su cui chi ne beneficia dei frutti preferiva non parlarne. Preferiva che la gente pensasse che le cose succedono così, perché succedono, ma in realtà è normale. Invece io noto che si stanno facendo sempre più pressanti le domande. Anche ieri mi sono sentito l'audizione di Mario Draghi al Parlamento europeo e la qualità delle domande che gli vengono rivolte è sideralmente diversa rispetto al passato, dove proprio certi temi non venivano toccati. Adesso le domande sono precise e lui si deve rifugiare in giri di parole, in dico non dico, in ma si vedremo. Io penso che alla fine sia giusto così, le cose devono maturare nel tempo corretto e non è giusto imporre ai cittadini un qualcosa perché noi lo sappiamo e loro no, ma fidatevi. È giusto che ci sia la consapevolezza che matura su come funziona il nostro sistema economico e una volta che i cittadini sono consci e consapevoli, poi ci sarà il movimento spontaneo e democratico per riuscire a ottenere il risultato. Quindi il tuo lavoro è eccellente da questo punto di vista perché stiamo andando proprio a spiegare ai cittadini delle cose che in tanti, io per primo, prima di rendermi conto che mancavano le basi, diciamo così, si dava per scontato. Invece così non è. Quindi la differenza fra cinque anni a questa parte c'è molta più consapevolezza che sta cominciando ad emergere e però dall'altra parte non se ne viene fuori, insomma. C'è un potere che si sta arroccando sempre di più, in modo sempre più forte e la cosa diventa sempre più difficile da scardinare senza danni. Allora, la domanda che ti volevo fare successiva è questa. Io ho maturato in questi anni, anch'io come altri, una consapevolezza su gli argomenti e i sistemi che il sistema mette in atto per cercare di difendersi da queste forze che vogliono ribaltare e fare un reverse della situazione economica. E ho capito che effettivamente, tu dicevi, se bisogna uscire dall'euro bisogna farlo in giro di 48 ore perché altrimenti poi i mercati impazziscono, no? Mi sono reso conto che ci sono più di un problema, cioè io ho maturato quasi una sgradevole sensazione che mi dice che dall'euro sarà molto difficile uscire perché è stato pensato proprio per impedire questo meccanismo di uscita e per costringere alla fine gli stati a convergere su scelte politiche comuni, su un assetto comune. Mi spiego. Supponiamo che si voglia uscire dall'euro. Chiaramente l'unica strategia da attuare è quella di farlo nel minor tempo possibile perché altrimenti, come tu mi insegni, probabilmente i mercati farebbero una maionese impazzita del nostro sistema. Farlo nel più tempo possibile è un po' difficile. Innanzitutto perché per uscire dall'euro, come tu giustamente hai detto, c'è bisogno che le persone condividano. Siamo 60 milioni di cittadini, almeno la metà dovrebbero avere questo sentiment. Perché lo condividano dovrebbero esprimerlo in un programma, dovrebbe essere espresso in un programma elettorale da parte di una forza politica chiaro e tondo e quindi ci sarebbe tutta una campagna elettorale su questo tema con degli analisti dei sondaggi che indicano che quella forza politica può vincere e quindi tutto questo tempo preparatorio chiaramente il sistema metterebbe le mani avanti e cercherebbe di fare lo spread, ti ricordi lo spread 2011, fate presto, insomma in qualche maniera condizionerebbe pesante evento. Anche ammesso che la forza politica vincesse, a questo punto poi Mattarella, noto europeista, invitatore di trilateral al Quirinale, dovrebbe conferire l'incarico a un premier che ha questo mandato popolare e già qui vedo grossi problemi. Anche ammesso che questa forza politica andasse al governo, non so, supponiamo la Lega, tanto un nome a caso, ci vorrebbe un decreto, ok? Questo decreto dovrebbe essere poi controfirmato dal Presidente della Repubblica, il quale credo, credo così a naso che troverebbe tutti i sofismi e i problemi più impensabili per dire no, non lo so, lo rinvio, ne parliamo, vediamo. Allora, come la vedi tu? Cioè, come si esce da questo? A parte tranne con una rivoluzione, chiaramente. No, no, ok, chiarissimo. Allora, ovviamente è sei anni che ci sto pensando su come e che cosa, quindi ho uno scenario abbastanza chiaro in mente. Innanzitutto non è che si esce in 48 ore, si esce in un secondo. Il punto che ogni tanto qualcuno tende a equivocare, magari anche forse per colpa mia che nel primo video non sono stato sufficientemente chiaro, è che l'istante dell'uscita è uno. Cioè, così come quando siamo passati dalla lira all'euro, non è che ci siamo passati in una settimana o qualcosa del genere. La notte prima c'era la lira, il giorno dopo, il mattino dopo, c'erano gli euro come valuta. C'era ancora la lira, ma non era più la nostra moneta ufficiale dal banco, ma tuscivano gli euro, non più. E il conto corrente era già stato subito tutto denominato in euro. Quindi il primo gennaio del 2002, quindi l'anno in cui entrò in vigore la nuova moneta, ci fu questo cambiamento. Probabilmente qualcuno ancora se lo ricorda, insomma, non so, mi ricordo anche dove ero, ero a Volterra. Vedi un potente, era di Toscana e provai per gioco andare al banco, mettere dentro e effettivamente uscivano queste orride monetacce invece della lira. Quindi si esce in un secondo. Quello che non si vede è la preparazione precedente. Quindi si esce in un tempo lungo perché in realtà ci vuole una grossa preparazione precedente, così come gli euro non sono nati nel Bancomat quel 31 dicembre. C'è stato prima tutto un grosso lavoro di preparazione, anche fosse solo banalmente per stamparli. Ecco, mettiamola così. Quindi in realtà il processo di uscita dall'euro è lungo, ma l'istante di uscita dall'euro è un secondo. Quindi questa è la differenza. Quindi quando io spesso dico si esce nel fine settimana, si esce nell'ultimo dell'anno, che è la cosa migliore, ecco, mettiamola così, perché si inizia subito con la contabilità nuova. Pensate che comodità, no? E similari. Lo faccio ovviamente perché mi riferisco all'istante dello stacco, no? In realtà la preparazione è prima. Può questa preparazione essere fermata o bloccata dalle forze oscure, sia le forze oscure che quelle chiare. Cioè, tipo, insomma, Mattarella non è che si può vederlo tanto come forza oscura, ecco, no? Semplicemente uno che potrebbe non firmare un decreto, come dici tu, certo. Allora, mi sono fatto l'idea che la preparazione può essere fatta in anticipo, semplicemente perché posso argomentare con qualsiasi tipo di forza politica, anche che non abbia direttamente l'uscita dall'Euro nel programma, la preparazione di passi per arrivare a una che io chiamo tutela nazionale. Mi spiego. Se io anche adesso arrivo lì e dico dobbiamo uscire dall'Euro, la gente ancora, dopo cinque anni, c'è il rischio che mi guardi un po' come matto, no? Perché dice, ma come? Guarda, è una cosa impossibile. Guarda, la Brexit, che già non avevano loro il problema della moneta, sono ancora lì a fare le discussioni su come, che cosa, è passato un anno e mezzo, ancora non riescono, arrivi tu e vuoi uscire dall'Euro. E un po' avrebbe ragione, vale a dire, io non posso permettermi di dire esco dall'Euro il giorno dopo che sono eletto. Allora, se qualcuno fosse mai stato eletto da qualche parte, si rende conto che l'arrivo è una confusione generalizzata, no? Cioè, già soltanto per dire dov'è l'ufficio, dove mi si è, che numero di telefono ho, cos'è la mia mail, cosa devo fare per avere un'assistente. Ma non soltanto, anche se ci sei già dentro, Berlusconi diceva che nei ministeri non riusciva a spostare neanche una pianta. Ma sì, tu arrivi dentro e c'è tutto una gran inerzia, no? Poi fai la riunione della Camera, mica è fai la prima riunione della Camera e dici si esce dall'Euro. No, c'è la riunione della Camera, la fai per eleggere il Presidente, magari ci vuole tanto tempo, perché vi ricordate? E frattempo i mercati. Franco Marini, Francesco Marini, per capire i franchitiratori. Insomma, tutto una ritualità, no? Per cui necessariamente uno arriva al governo ed è uno stolto quello che dice io esco subito dall'Euro. Non hai neanche gli strumenti, con cosa lo fai? Che non sei in carica, non hai neanche capito da che parte esci e poi che cosa fai? Esci gridando dalla porta. Quindi sono argomenti che van bene per i partitini che vogliono sfruttare l'onda e dire ecco io mi faccio vedere più deciso di te, io dico che esco dall'Euro settimana scorsa. In realtà così ovviamente non è e c'è tutta una parte di preparazione che va fatta e io sono convinto che questa parte di preparazione può essere condivisa anche da partiti che non hanno esattamente nel programma di uscire dall'Euro. Ma capite che se io voglio fare la carbonara e un altro invece dice che no, lui la carbonara non la vuole, però gli mi piace la pancetta, o il guanciale adesso non so per la precisione cosa ci vuole per la carbonara, diciamo la pancetta affumicata. Già il fatto di andare fuori e comprare le uova e la pancetta affumicata perché queste vi piacciono a gente che in realtà non vuole la carbonara, ma dice però le uova sì, la pancetta affumicata sì, è già un passo avanti, se io ragiono sapendo che devo fare dei passi precisi per arrivare a una certa maniera e questi passi in sé sono condivisi da qualcun altro che però non condivide il punto finale, non importa perché tanto io in ogni caso dovrei andare fuori a prendere la pancetta, a prendere uova. Ho tempo di convincerlo e oltretutto quando ho tempo di convincerlo gli mando tutti questi primi lunghi periodi di aggiustamento e di adattamento al nuovo governo, al nuovo Parlamento. Quindi io sto cercando di scomporre quello che sto facendo io in questi anni, in questi tempi anche all'interno del mio partito, è scomporre la questione uscita dall'Euro in ingredienti, i quali ingredienti possono essere condivisi, quindi la questione Banca d'Italia la trattiamo singola, la questione moneta in circolazione, stampa di moneta la trattiamo singola, la questione gestione dei debiti e crediti, gestione di target 2 con l'Europa, la trattiamo singola. Ogni cosa è parte di un ingrediente che se io riesco a sistemarli, dopo la volontà politica dello schiacciare il bottone finale, quello la si costruisce, ma capite che se io non ho gli ingredienti… Tu puoi schiacciare tutti i bottoni che vuoi, ma se non c'è il computer sotto… Lì succede quello che hai detto tu, succede quello che hai detto tu perché a quel punto tu dici io dichiaro un intento, non sono pronto, viene fuori il disastro, la Grecia, cioè questo è la Grecia che dichiarano un intento, io mi ribello all'Europa, loro non dicevano voglio uscire dall'Euro, loro dicevano io mi ribello all'Europa perché io voglio fare quello che… voglio smettere con l'autorità, voglio fare quello che dico io, ma non avevano pronto niente, risultato vai alla trattativa dell'Europa, ti prendono per un'orecchia e ti dicono zitto e tu fai esattamente quello che ti dico io e tu non hai modo di essere efficace nella contrattazione, se invece tutti i punti riescono a essere già a posto, tu puoi anche incontrare uno che dice io non sparerò mai a uno in casa mia, perché io sono contrario alle armi, quindi tu non riuscirai mai a farmi dire che se arriva un ladro in casa mia io gli potrei sparare, però se gli metti lì la pistola, i proiettili, il corso di tiro e cose di questo tipo, la volta che ti entra davvero il ladro in casa, siamo sicuri che quello non sparerà, sebbene abbia dichiarato che lui non sparerebbe mai a una persona, c'è la volta che si vede uno con il coltello che si sta dirigendo verso i tuoi figli, che cosa fai? È legittima difesa? No, certo, ovviamente è legittima difesa, ma quella legittima difesa, quegli strumenti per reagire alla legittima difesa, anche una persona che inizialmente dichiarava in perfetta buona fede che lui non avrebbe fatto, una volta che ha gli strumenti secondo me potrebbe farla, infatti io sto cercando di spostare il dibattito per quanto possibile, sulla questione della sicurezza nazionale, nel vecchio video ti avevo dimostrato perché ci conviene, perché l'euro danneggia la nostra economia e invece fa prosperare quella della Germania, perché ci porta a disoccupazione e invece porta a piena occupazione la Germania, avevo fatto il libretto, basta euro, proprio per spiegare queste cose, basta, queste cose le do per assimilate, se uno vuole andarsene a riguardare, guardali. Adesso sono attento al livello della sicurezza nazionale, cioè se domani alla Banca Centrale Europea arriva Weidman e ci dice consegnate tutto l'oro che avete in Banca d'Italia, tra parentesi la terza riserva mondiale d'oro, a garanzia di crediti inesistenti come quelli per esempio Target 2 fra le banche centrali, cosa già scritta. Ipotesi non peregrina? No, ipotesi assolutamente non peregrina perché è già stata buttata lì con il solito metodo su tanti giornali tedeschi. Cosa facciamo? Gli le consegniamo oppure no? Se ci dicono voi deportateci i vostri figli perché ci servono per farli lavorare in alcuni campi di lavoro dove produrre. Ipotesi non peregrina, sai che la Merkel ha fatto un annuncio chiedendo ai giovani italiani di andare a lavorare in Germania che c'era tanto da fare. Esatto, ecco, allora se ce lo dicono in modo coercitivo invece che come invito positivo. Cosa facciamo? Ciao figlio mio vai e raccontami come si sta a Rostock. In realtà ci deve essere un punto dove uno dice no. Perché se, e questa è la cosa che io rimprovero a Berlusconi e a tanti, dicono tante buone idee ma al momento ti dicono però l'Euro io me lo devo tenere, nel senso è così, è vero, non mi piace, allora cerco altre idee, ma alla fine l'Euro me lo devo tenere. Lui che è stato uno che è stato abbattuto dall'Euro dovrebbe porsi il problema se c'è il bis di quella storia lì. Arriva, supponiamo che la sfida Berlusconi e Salvini per chi ha più voti, esprime il premier e così così, poi la vinca, uno dei due. Uno qualsiasi, ovvio che io ho le mie preferenze, ma uno dei due. Provano ad attuare quello che si promette in campagna elettorale e riparte lo spread, perché la banca centrale, Weidman, dice no, io le 1000 Euro di pensioni, col cavolo, io voglio anzi che voi le dimezziate le pensioni e altrimenti chiudo i rubinetteri. Un'altra lettera della BCE, questa volta scritta in tedesco. Magari Deutsche Bank si libera di altri 50 miliardi di titoli di Stato italiani. Magari Deutsche Bank si libera di altri 50, dando là o qualcosa, ma anche se non solo si libera Deutsche Bank, basta che dicano che smettono il quantitative easing, smettono di comprare i titoli nello specifico italiani, fino a che non avranno visibilità sulla futura sostenibilità dei conti, basta usare una qualsiasi perifrasi e ovviamente senza garanzia della banca centrale rinizia a partire lo spread. E tu che cosa fai? Stiamo parlando di sicurezza nazionale, in questo momento ci sono due cardini dell'economia italiana che sono il debito, quindi il rifinanziamento dello Stato, la possibilità dello Stato quindi di rinnovare il debito in scadenza e per finanziarsi per quello che deve fare, perché attenzione lo Stato spende i soldi delle tasse, ma il debito in scadenza deve essere rifinanziato, se tu non riesci a rifinanziarlo da qualche parte viene fuori o defaulti, oppure non paghi gli stipendi, la bombola d'ossigeno all'approvvigionamento di denaro dello Stato in questo momento per noi è esterno, perché la fonte del denaro è esterna ai confini italiani, non abbiamo la sovranità monetaria, dal punto di vista poi della tutela delle banche, la garanzia dell'assolvibilità delle banche, che già abbiamo visto quanto male funziona, comunque la garanzia dell'assolvibilità delle banche intese come sistema, non della singola banca, è data dal prestito d'emergenza della banca centrale, vale a dire se una banca è in crisi di liquidità, perché in quel momento tanti prelevano, dall'altra parte tu puoi dire non c'è problema, finché io attingo dalla fonte del denaro, tu puoi anche prelevarmi tutti i tuoi risparmi, tutti i correntisti possono presentarsi il giorno 1 a prelevare tutto quello che vogliono e io ce le ho. Abbiamo visto cosa ha fatto Draghi in Grecia che ha chiuso i banco, ma sostanzialmente… Nel momento stesso in cui tu hai annunciato in Grecia, non si va di bene che uscivi dall'euro, ha annunciato la banca centrale molto semplicemente che non garantiva più le banche, l'ha detto nei giorni precedenti, con una teatralità oltretutto che gli va riconosciuta perché è bravo, due giorni prima ha detto ci sono 20 miliardi in uscita, ma non c'è problema, li rifinanzio, poi il giorno dopo faccio ci sono 30 miliardi in uscita, ma per adesso li rifinanzio e a quel punto ha lasciato passare il per adesso, poi ha detto potrei non rifinanziarlo più, a quel punto, scusate, così come se vi dicono che da domani per un anno chiudono le farmacie, io prevedo facilmente corsa alle farmacie a prendere medicinali salvavita, si pensi chi deve seguire delle terapie, io non vorrei immaginarmi una scena del genere, stessa roba in quel caso per il denaro, per cui questi due strumenti che potrebbero bloccare l'attività di uno Stato in questo momento sono saldamente nelle mani della Banca Centrale. E il fatto che in tanti stiano, europea, e il fatto che in tanti stiano cominciando a farsi delle domande basilari del tipo, ma questi chi li controlla, chi li nomina, perché hanno questo diritto, da dove gli deriva questo diritto, è giusto che sia così? Queste sono le domande fondamentali e a queste poi si aggiunge la consapevolezza, e questo secondo me è stato uno dei grandi errori del sistema, della creazione del denaro, perché vedendo le cifre sono così alte e ammantato da questa sigla, quantitative easing, in molti si pensava che non ci sarebbe stato problemi, tanto non se ne accorgono, ma nel momento stesso in cui chiaramente ti dicono che ci sono 2.500 miliardi che la Banca Centrale Europea ha creato per acquistare i titoli dell'Eurozona. Io continuo a buttarla lì, in modo tale che venga il sospetto, ma il sospetto che a qualcuno sempre più sta venendo è, ma questi 2.500 miliardi da dove vengono? Paghiamo le tasse alla Banca Centrale Europea? Ma mi dicono che li hanno creati, sì li ha creati, e allora il dubbio che viene è, ma scusa, io qui mi stanno chiudendo un ospedale sotto casa e quando chiedo alla mia regione perché mi chiudono l'ospedale sotto casa mi dice perché non ci sono i soldi, ma perché dall'altra parte quello lì ne crea 2.500 miliardi? Ma scusate, se creava 2.500 miliardi e un ospedale, cioè i 50 milioni che avanzavano per, 50 milioni in più rispetto alla somma che viene creata ora, mentre noi stiamo parlando ogni giorno, per fare un ospedale, cosa sarebbe successo e a qualcuno comincia a venire il sospetto che sarebbe successo che ci sarebbe un ospedale in più e quindi le domande giuste stanno man mano facendosi strada nel cuore della gente e a me piace moltissimo questa cosa. Il denaro non esiste in natura, non è che lo scavi nelle miniere, essendo una cosa fabbricata dall'uomo si può fabbricare nella quantità giusta. Ora, proprio sulla quantità giusta e sul chilo fabbrica si gioca il problema. Uscendo dall'euro, tornando al nostro fiorino, come dicevamo cinque anni fa, chiamandolo con un nome nuovo, avremmo di nuovo recuperato questa possibilità di incidere sulla nostra spesa pubblica e probabilmente di garantire i servizi essenziali. Vedi Claudio, io mi sono accorto di un altro errore in quel video di cinque anni fa, quando descrivevo il meccanismo di perdita di valore della moneta in caso di eccesso di creazione della medesima, è verissimo. Cioè l'inflazione? Vale a dire, sì, l'inflazione, quando mi avevi fatto una domanda precisa, cos'è l'inflazione? Raddoppio la moneta e a quel punto, se domani tutti ci ritroviamo con il doppio di soldi in tasca, anche le cose costano il doppio e quindi non cambia nulla, perché in realtà la moneta è carta, non porta ricchezza in sé, è verissimo. Cioè attenzione, la moneta non è ricchezza, la moneta è carta, la ricchezza è data dalla produzione dei beni di ricchezza di uno Stato, è quello che dà valore adesso la moneta, ma la privazione della moneta porta sicuramente povertà, intendiamola secondo me come l'aria, cioè in questo momento noi respiriamo, possiamo tranquillamente spalancare le finestre, può essere più fresca l'aria volendo, ma respiriamo lo stesso, non è che se noi aumentiamo tantissimo l'aria in questa stanza cambia qualcosa più di tanto, alla fine sempre quella è, ma se creassimo il vuoto e togliessimo l'aria e cominciassimo a centellinarla, dandola soltanto in confezioni prepagate dove uno per poterla avere deve dargli l'orologio, deve dargli la cosa, ecco che cambia la situazione. Quindi non bisogna tanto concentrarsi sul fatto della creazione di ricchezza, no, non è così, non si crea ricchezza stampando moneta, ma la privazione della moneta invece ha delle conseguenze terribili. Poi mi sembra di ricordare che fossi tu, o Alberto Magnai, adesso magari me lo dici, che hai pubblicato a un certo punto uno studio, un grafico, qualcosa che diceva che la creazione di denaro in presenza di forte disoccupazione non crea inflazione. Te ne avevo parlato io perché nel video si parlava della curva di Philips, no? Effettivamente il punto è quello, vale a dire l'inflazione, quindi questa perdita del valore della moneta, che è il limite oltre il quale io posso stampare moneta, no? Perché altrimenti l'altro errore che fa tanta gente quando sente questi ragionamenti è, beh, ma allora diamo un milione a tutti, no? E cose di questo tipo. Il limite della creazione di moneta è dato appunto dalla produzione di uno Stato. Finché io ho disoccupazione, è impossibile, forte disoccupazione, è impossibile pensare a una forte inflazione interna. Può esserci esterna se, come negli anni 70, triplica il prezzo del petrolio, allora le cose che io devo comprare all'esterno costano di più e va bene. Ma altrimenti, in presenza di disoccupazione, il disoccupato non compra una cosa a 5, figurarsi se non la compra, se riesce a comprarla a 7, cioè in buona sostanza, l'aumento di moneta nel sistema prima deve far rientrare la disoccupazione. Una volta che si è arrivati a piena occupazione, si è arrivato a pieno utilizzo degli impianti e cose di questo tipo, allora può essere che poi porta all'inflazione. Ma voi capite che in questo momento dovrebbe essere proprio quello che noi perseguiamo, cioè abbiamo tante cose da fare e tante persone disoccupate, molte di più di quanto ne avevamo 5 anni fa. Ma non le possiamo pagare per mancanza di un mezzo. Ma ci manca il mezzo per poterle mettere utilmente al lavoro, no? E allora a un certo punto uno si pone il problema e dice ma perché? Cioè di solito la domanda è questo, ma se è così facile, se io posso creare il denaro, se questo denaro creato mi porta a delle conseguenze positive, quali risolvere il primo problema dell'Italia? Perché in questo momento se vai a sentire tutti, fai tutto il sondaggio che vuoi, non ho mai creduto più di tanto ai sondaggi, ma tu fai tutti i sondaggi e dici cos'è il problema in questo momento in Italia? La corruzione. No, ti dicono il lavoro. La corruzione la prendono come conseguenza, manca lavoro perché c'è la corruzione, sbagliato. Manca lavoro perché c'è l'immigrazione, sbagliato. Manca lavoro, l'immigrazione diventa sbagliata proprio perché non c'è il lavoro. Se ci fosse il lavoro andrebbe bene anche l'immigrazione, invece non c'è il lavoro. E quindi perché questa cosa che potrebbe consentirmi di risolvere il principale problema del mio paese non viene risolta? Perché dobbiamo sempre pensare a chi comanda. In questo momento comanda la Germania. Secondo voi la Germania ha problemi di disoccupazione? No. In questo momento la Germania è in piena occupazione e facendo del tutto i propri interessi e credendo di essere creditore del sistema, perché poi ci arriveremo la Germania, possiede la Bundesbank. La Bundesbank in questo momento ha a bilancio oltre 700 miliardi di crediti nei confronti della banca centrale europea, tramite il sistema di compensazione interno delle banche centrali che si chiama Target 2. Per molto, molto, molto meno si sono fatte guerre. 700 miliardi è la metà del PIL italiano, quindi significa la ricchezza, il valore di metà Italia. Quante guerre si sono fatte nell'Ottocento e così via, per Nizza, la Savoia, Trieste, Trento. Quindi tu stai dicendo che la Germania ha un potere di ricatto sulla banca centrale europea? La Germania è la cosa centrale, perché almeno capiamo anche le motivazioni di chi vuole impedire che si stampi denaro, perché è evidente che se io sono creditore, voglio che il denaro che mi devono restituire sia il più pesante possibile. Non voglio l'inflazione, anzi è l'ultima cosa che voglio, l'inflazione, se io sono creditore, perché il mio credito mi verrebbe ripagato con moneta svalutata e quindi io non ho nessun interesse, io Germania, avere più occupazione, perché già ce l'ho, anzi sto invitando gente per cercare di tenere bassi i salari e non ho nessun interesse a creare moneta perché l'inflazione è contraria i miei interessi di creditore. Quindi questa roba non si fa, perché all'interno dell'Europa non c'è un sistema dove tutti vanno d'accordo, c'è un sistema dove ci sono degli interessi contrapposti a degli altri interessi e ci sono gli interessi di chi comanda e gli interessi di chi subisce, comanda la Germania, subisce l'Italia, in certi casi anche con il lancio della monetina, vedi l'agenzia del farmaco. Il punto è questo, la Bundesbank ha 700 e passa miliardi di crediti nei confronti della Banca Centrale Europea, perché tutto il denaro accumulato vendendo i suoi prodotti, quindi tutte le sue automobili, le sue frigoriferi, le sue macchine di precisione, questo tipo, vengono pagati dal resto del mondo e il resto del mondo deposita questi soldi nella Banca tedesca, che dato che non riesce a impiegarli tutti, li sposta nella Bundesbank. La Bundesbank, dato che è un sistema di compensazione, questi soldi vengono presi e messi nel calderone della Banca Centrale Europea. Per cui cosa succede? Che la Bundesbank ha 700 miliardi di crediti verso la Banca Centrale Europea e lo segna bilancio. Vai a vedere il bilancio della Banca Centrale Europea, se il mondo fosse normale ci dovrebbero essere 700 miliardi di debiti nei confronti della Bundesbank, ma non ci sono. Stranamente se tu prendi il bilancio della Banca Centrale Europea ti sfido a cercare se ci sono 700 miliardi di debiti nei confronti della Bundesbank. No, perché ti dice tanto è tutto compensato, è compensato con 350 miliardi di crediti che ho nei confronti di Banca d'Italia e 350 miliardi di crediti che ho nei confronti del Banco d'Espagna. Quindi in questo calderone delle compensazioni spariscono un sacco di soldi. Ha ragione chi dice, come un mio intervistato recente, che è un grande sistema di riciclaggio del denaro un po' in nero che non si capisce dove finisce? No, ma in realtà si capisce abbastanza bene dove finisce. È un sistema che all'esterno è pareggiato, ma all'interno ha degli squilibri fortissimi. È come se io facessi costantemente dei prestiti a mia moglie, tanto per dirne uno, e a quel punto dall'esterno è un non problema perché dice, vabbè, io sono creditore di 100 e lei è debitrice di 100, ma inteso come famiglia per me non ci sono problemi. Il problema poi comincia a saltare fuori se si divorzia. Ed è lì il punto tale per cui la gente comincia a farsi i suoi conti e già il fatto che se li facciano comporta che questa opportunità del divorzio, che prima era non contemplata, comincia a farsi strada. Quando Draghi ha fatto un grandissimo errore rispondendo una domanda di uno molto bravo che è Marco Zanni. Marco Zanni, eurodeputato che è uscito dal Movimento 5 Stelle, è venuto nel nostro gruppo ENF nel Parlamento europeo, gli ha fatto una domanda piuttosto semplice dicendo, ma se per caso noi dovessimo uscire dall'Euro, questi 350 miliardi di debiti perché Banca d'Italia, mentre la Bundesbank ha i crediti, Banca d'Italia ha i debiti, che rappresentano sia i beni comprati dagli italiani e già pagati nei confronti della Germania, quindi noi alla Germania non dobbiamo niente, ma la mancanza di denaro che si è trasferita dall'Italia alla Germania è stata compensata dalla Banca centrale europea, riprendendo peraltro quei soldi che stavano nella Bundesbank. Quindi questi 350 miliardi di debiti nel momento stesso in cui io dovesse uscire dall'Euro, che fine fanno? E Draghi ha fatto un gravissimo errore, vale a dire rispondendo ha detto, se uno dovesse uscire dall'Euro questi saldi devono essere pagati in toto. Cercava di terrorizzare? Pensando di spaventare, ahi lui non ha capito che ha aperto il vaso di Pandora, perché il solo contemplare la possibilità dell'uscita implica che la gente comincia a farsi conti del come perché? Infatti subito un secondo dopo è arrivato Hans Olaf Henkel, che fra l'altro era uno che si era trovato con me in tempi remoti, quando ci avevano chiesto del famoso manifesto di solidarietà europeo, avevano preso gli unici pazzi, all'epoca eravamo solo in 7-8 in tutta Europa, che dicevano che si poteva smantellare l'Euro, lui era uno di quelli, e ci avevano chiuso a Bruxelles chiedendo di trovare un piano, di formalizzarlo il piano per vedere come si potrebbe fare, lui era uno di quei 7, e lui subito dopo questa risposta fece una domanda a Draghi, dicendo ma se allora esce la Germania, lui ovviamente è tedesco, voi ci date 700 miliardi? A quel punto, capite che qui stiamo parlando di cifre così incredibili? E Draghi cosa ha risposto? Draghi ha risposto, giustamente no, si è messo le mani nei capelli dicendo oddio che cosa ho fatto, e ha subito cercato di correggere il tiro rispondendo non è contemplata l'ipotesi di uno che se ne esca, cioè un minuto prima era contemplata, adesso non è contemplata, ma adesso ci si entra in un, se man mano si va a scavare su questo, io so già che Zanni è lì che già comincia a rosicchiare come un criceto, si entra in un mondo incredibile perché a quel punto uno dovresti dire ma è valido o non è valido l'articolo 50 del trattato, quello che ti consente di uscire lo stesso che ha applicato la Brexit? Perché se è valido e se tu mi dici che se esci dall'Unione Europea esci anche dall'Euro come è già stato detto autorevolmente da tutti, allora la devi contemplare l'eventualità, perché se esiste un articolo 50 che ti dice che tu puoi recedere dall'Unione Europea con quella procedura e se è vero che uscire dall'Unione Europea comporta anche uscire dall'Euro, allora è possibile e se è possibile che cosa succede con questi saldi? E allora a quel punto capite bene che già vedete come scricchiola il sistema, perché il sistema funziona se la gente crede fermamente che è immutabile, nel momento stesso in cui già soltanto la goccia del sospetto comincia a farsi strada, le contraddizioni esplodono ed esploderanno come un fuoco d'artificio, io sono qua già con un pop corn gigante che mi aspetto il momento in cui cominceranno a volare gli stracci e la nostra posizione, se il governo sarà in mano a persone consapevoli, sarà fortissima, perché secondo il vecchio detto se ti devo 1000 Euro è un problema mio, se te ne devo 100 milioni è un problema tuo, quindi questo sistema tale per cui ci sono questi supposti debiti e crediti diventa incredibile. Io già mi immagino questi tentativi di buttarla lì dicendo metteteci a garanzia l'oro, sarà veramente da ridere, perché noi, tanto per dirne una, noi dobbiamo, secondo questo supposto schema tale per cui questa diventa un debito, ma vedremo che in realtà è una scrittura contabile, noi dobbiamo 350 miliardi alla Banca Centrale Europea, noi l'oro ce l'abbiamo, anche se non copre tutti i 350 miliardi, pur essendo la terza riserva d'oro del mondo, ne vale. Ma in parte era conservato all'estero in parte, è metà e metà è sparso all'estero fra Londra, America. Se ce lo ridanno diciamo, ce l'abbiamo. Non aprite quella porta, però procurerò di far rientrare anche quello se possibile o almeno di vedermi notificato che non me lo ridanno, comunque in ogni caso metà, quantomeno di sicuro a Roma c'è. Però tutto l'ammontare delle nostre riserve auree vale 90 miliardi circa, forse un po' meno i prezzi attuali. Però vabbè, noi in ogni caso 90 ce l'abbiamo. La Spagna che deve la nostra stessa cifra, non ha un grammo d'oro. Se noi andiamo a vedere nelle casse della Banca di Spagna, forse troviamo l'oro della fede di Rao, ma altrimenti l'hanno già venduto tutto. Quindi sarà molto difficile per chi vuole organizzare una cosa fatta bene secondo le regole europee, vale a dire quelli uguali per tutti fare una spogliazione del genere, ma il pericolo c'è sempre. Quindi dobbiamo essere molto vigili, perché in realtà questi debiti e questi crediti non esistono. Questi debiti e questi crediti sono derivanti dal sistema così com'è che funziona come una cassa di compensazione, ma i soldi l'italiano per comprare la BMW li ha già pagati, l'italiano non deve nulla al tedesco. Quindi vogliamo sapere come si risolverà questa incredibile cosa del target 2 quando ci dobbiamo, il giorno in cui tutto verrà risolto. Beh, è semplice, bisogna sempre ricordare questa cosa che la Banca Centrale Europea crea al denaro. E quindi molto semplicemente quando Banca d'Italia e Banco di Spagna diranno alla Banca Centrale Europea noi i 350 miliardi di Euro non te li diamo, questo ammanco di 700 miliardi di Euro nelle casse della Banca Centrale Europea non la fa fallire, perché a sua volta deve dei soldi a qualcuno, vale a dire alla Bundesbank, ma lo può creare. Come sempre è una volontà politica. Il giorno dopo otteniamo l'azzeramento di 700 miliardi derivanti da questo finto debito di Banca d'Italia e Banco di Spagna e la contestuale creazione degli stessi 700 miliardi che vengono poi accreditati alla Bunda. Stretta di mani e tutti a casa. Finisce lì. A me non piace entrare nel lagone politico, però una domanda te la devo fare. Siccome ho visto parecchi commenti sulla tua Twitter line che è popolatissima, allora ti dicono ma siamo sicuri che Borghi Claudio e Matteo Salvini vogliono davvero uscire dall'euro e tu tutte le volte ti prodighi a spiegare. Vuoi spiegarlo anche una volta per tutte qua davanti alle videocamere? Ci vuole una grande pazienza. La questione dell'euro l'ho tirata fuori io e bagnai ovviamente perché da destra e da sinistra contemporaneamente siamo arrivati allo stesso momento. La questione dell'euro politicamente l'ha posta la Lega Nord. Quando alle elezioni europee si presentò addirittura con il simbolo basta euro. Come si può pensare che sia una cosa che non vogliamo fare? Chi ce lo faceva fare? Se veramente non fosse stata nostra intenzione si parlava d'altro molto più semplice. Si diceva meno tasse, più lavoro e così via. Perché la gente è scottata dai movimenti che nascono per fare qualcosa e poi arrivano e si mettono in scia. Certo, mi rendo conto. Però meno tasse e più lavoro deve essere fatto. Quindi è sicuramente la ricetta per riuscire a. Il problema è quando ci arriviamo. E quando ci arriviamo e come? E con il problema che avevo detto prima io della sicurezza nazionale. Vale a dire se per fare meno tasse e più lavoro me lo impediscono, cosa faccio? Se perché io faccio meno tasse e più lavoro sale lo spread, che cosa faccio? Quindi è evidente che io voglio uscire dall'euro e così lo vuole Matteo Salvini. La differenza, quello che alcuni hanno percepito come un cambiamento, deriva dalle circostanze differenti che ci sono state a seguito delle elezioni francesi. Vale a dire, io mi aspettavo prima che uscisse la Grecia dall'euro e sbagliai. perché in quella maniera assurda che io non immaginavo che arrivassero a tanto dal punto di vista della coercizione di un popolo, l'hanno chiusa lì. E quindi la Grecia che era tutto disegnato perché uscisse dall'euro e quando nel tuo video di cinque anni fa si parlava di questo, era tutto disegnato sulla Grecia. Tu che sei dentro nelle segrete cose, sai perché Varoufakis poi si dimise la sera del referendum greco? Si dimise perché si rese conto che il blef ormai l'avevano chiamato e si è reso conto che non avevano la capacità di andare avanti. Poi ci sono delle cose scritte su quel periodo, io non ero lì, ho parlato anche con lui, ma alla fine non avevano la preparazione fatta. Da lì ho anche imparato l'importanza della preparazione. Non avendo la preparazione fatta, essendo costretti con quella violenza che probabilmente nemmeno loro avevano immaginato, avevano pensato, a un certo punto ho detto basta, è inutile che vado avanti a imbrogliare la gente. Invece che cosa succede? Succede che tu per come sei messo contavi, tu io scusa Claudio Borghi, contavo su uno smantellamento derivante da cause esterne. Io devo essere pronto subito e succederà subito perché esce la Grecia, cade il castello di carte. Basta che si veda uno che esca perché il dogma dell'indissolubilità accada per evidenti motivi. Dopo ero convinto che sarebbe stata la Francia, lo dicevo a tutti, quando è il momento dove si esce? Io dicevo 2017, perché? Perché vota la Francia e probabilmente la Francia uscirà dall'Euro perché vincerà le penne e sbagliavo ancora. D'altra parte non si può prevedere la stupidità umana o la capacità di coercizione. Loro sono stati molto abili con la Francia a tenere sotto anestesia tutto, hanno capito che bisognava fare un processo opposto a quello della Grecia. Perché se avessero preso e strattonato la Francia esattamente come hanno fatto con la Grecia, per esempio facendogli salire lo spread, chiudendo le banche prima delle elezioni, dicendo non votate la Le Pen, a quel punto si sarebbero incazzati. Infatti io quello contavo, dicevo loro utilizzano questo strumento e scatenano la reazione opposta del francese che a quel punto le avremmo mandati a quel punto. Quindi hanno messo il rapporto di Rothschild creato da nulla. Invece li hanno seppelliti di zucchero, li hanno tenuto su l'economia come tuttora la stanno tenendo su con gli acquisti illimitati e così via, tutto tranquillo, non succede niente, tutto pacifico. A quel punto li hanno messo questo coso creato in laboratorio che rassicurava e si incuneava nelle differenze che ci sono nella società francese, tale per cui questo sì è uno innocuo, è sicuramente meglio del fascista, dall'altra parte se invece di esserci la Le Pen fosse stato Mélenchon probabilmente sarebbe stata la stessa cosa, avrebbe detto questo qui ma è sicuramente meglio del comunista. Risultato perfetto, sfruttate le divisioni della società francese è disattivato il problema Le Pen. È molto differente uscire insieme ad altri paesi, specialmente a un paese come la Francia o uscire da soli, è la stessa differenza che c'è se io so che devo andare da qui a Piacenza e per andare da qui a Piacenza prendo un taxi, prendo un mezzo, guida un altro, ci arrivo. Se devo guidare io non so guidare, devo prima imparare a guidare, prendere la macchina e allora poi posso pensare di arrivarci. Quindi la differenza è tutta lì, fra sedersi nel posto di fianco e dirgli magari conosco io la strada, ti dico io dove andare ma guidi tu e invece se devi fare tutto tu. Quindi il nostro cambiamento, diciamo così, prende semplicemente atto che i nostri potenziali catalysti per far precipitare la situazione sono svaniti, non ci sono più e quindi i tempi sono diversi. Spetta a noi iniziare già subito adesso la preparazione. E quindi tu hai elaborato un progetto? Sì. Di cui ci puoi mostrare poi anche un esemplare? Sì, vi mostro qualche esemplare e tutto si ritorna a quello che ti ho detto prima, vale a dire presentare i singoli ingredienti e questi ingredienti possono essere tollerati, diciamo così, da forze più vaste. Quindi la domanda è come facciamo a introdurre una valuta se abbiamo già l'euro? Esatto, una di queste riguarda il problema appunto della stampa fisica delle banconote e il desiderio anche della gente di uscire dall'euro una volta che hanno visto che è possibile pagare con un'altra cosa. Cosa si fa? Se ne sentono tante, ecco questo qui in anteprima, vedi, è un libretto che conto di distribuire a breve così come feci con il basta euro, quindi si tratta di, come dire, il secondo passaggio. Chiaramente me lo darai in anteprima. Beh, è ovvio. E questo è un euro, un euro però sotto forma di piccolo buono del tesoro, questo in realtà è un buono del tesoro dello Stato italiano del valore di un euro. Cos'è l'idea? L'idea è semplice, non è possibile coniare un'altra moneta, lo vietano i trattati, non è possibile. È già stato detto e quindi anche quando Berlusconi dice facciamo una seconda moneta e così via, si scontra con un Draghi che dice, ha già detto anche all'Estonia che voleva fare una criptomoneta e questo tipo, gli ha detto non è possibile perché non avrai altro euro all'infuori di me. Ma nessuno, nessun trattato ti dice cos'è il taglio minimo per un titolo di Stato. Il nostro taglio minimo al momento è 1.000 euro, ne abbiamo anche da 10.000, ne abbiamo anche di tagli superiori, ma il taglio minimo è 1.000 euro. Quindi se io voglio comprare un bot, vado in banca e dico vorrei investire 1.000 euro in un bot, benissimo, puoi. Vorrei investire 700 euro in un bot e ti dicono no, non puoi. Quindi se lo Stato, lo Stato, non la Banca Centrale Europea, non una banca privata, perché i titoli di Stato sono emessi dal Tesoro, non sono emessi dalla Banca d'Italia, non sono emessi dalla Banca d'Italia. Dove c'è la signora Maria Cannata. Dove purtroppo c'è la signora Maria Cannata che secondo me come cognome dice qualcosa sbaglia ogni tanto, ma specialmente sulla tipologia di tasso, ma questo ci porterebbe lontano, detto questo è possibile emettere dei titoli di Stato di taglio inferiore, a cui daremmo forma cartacea. Essendo che daremmo forma cartacea possiamo tutto sommato sceglierceli un po' come vogliamo. Questo è fronte e retro del mini bot da 100 euro, quello con Enrico Mattei e il Palazzo Ducale di Urbino, per esempio, è giusto per vederne una. Questo è il mini bot da 10 euro con Falcone Borsellino e la Cattedrale di Palermo, quindi fino ad arrivare, va bene, c'è il 50 con Pertini, il 200 con Toscanini, fino a fa un po' ridere per certi versi di questi tempi, ma almeno ci ricordiamo di quando contavamo qualcosa. Il 5 euro con il gol di Tardelli, questa è l'esultanza di Tardelli dopo il gol alla Germania. D'altra parte siamo liberi di farli un po' come vogliamo, con questi cosa succede? Noi semplicemente diamo forma a un debito che già c'è, perché lo Stato deve un sacco di soldi ai suoi cittadini, deve un sacco di soldi alle imprese, deve un sacco di soldi ai privati, deve un sacco di soldi a tanta gente, non li sta pagando, sta tenendo indietro quei pagamenti, crediti IRPEF, crediti IVA, crediti di imposta per le ristrutturazioni da spalmare in 10 anni, sono tutti i crediti che noi abbiamo nei confronti dello Stato e lo Stato non ci paga, le partite IVA figurarsi, hanno crediti nei confronti dello Stato incredibili. Ecco, lo Stato molto semplicemente prende questo debito che già c'è, quindi non è un nuovo debito, non è che io creo denaro dal nulla, no, prendo semplicemente un debito che già c'è e gli do forma e con questo pago il maggior numero di persone possibili e non obbligo nessuno ad accettarlo, quindi non è legal tender, cosa che comporterebbe delle cose, ma lo Stato si impegna a ritirarlo per le tasse, se lo Stato si impegna a ritirarli per le tasse il valore è garantito. C'è la piccola partita IVA che riceve 1000 bot e può andare dal macellaio perché il macellaio sa che ci può pagare le tasse. il quale a sua volta però non le pagherà le tasse, così come noi difficilmente paghiamo le tasse con i contanti, semplicemente li utilizzerà per normalmente le transazioni di ogni giorno, tutti i negozianti le accetteranno perché si sta parlando di 70-100 miliardi di roba che viene emessa, di denaro che viene emesso nel sistema e se io non lo voglio accettare perché dico no io cosa sono queste cose qua andranno dal negoziante vicino a me e quindi succederà esattamente la stessa cosa di chi adesso non vuole e tutto sommato il suo diritto è accettare le carte di credito o i buoni pasto, un bar che in centro a Milano non accetta i ticket restaurant non fa tanti affari, però il suo diritto non farlo, però non succederà molto semplicemente perché appunto questo denaro sarà in circolo e sarà denaro buono, ecco che capite che nel momento stesso in cui io avrò in circolazione una massa monetaria analoga a quella del valore degli Euro che in questo momento di carta, che in questo momento sono in circolazione, io sono convinto che succede una magia, la magia è che la gente si rende conto che esiste vita lì fuori dell'Euro, una volta che avrà in mano il suo 50 Euro per Tini e vede che con questo ci paga la benzina, io penso che succede quello che forse con i nostri video non siamo riusciti a fare, a far capire alla gente che succedono le cose anche dopo una realtà che cambia, non esiste il cade il mondo. Ma se i trattati internazionali vietano politiche monetarie dei singoli Stati al di fuori dell'Euro e se questa cosa sembra molto una valuta nuova, non c'è il rischio che l'indomani arriva qualcuno dalla Commissione Europea e dice stracciate subito queste cose? Beh, allora, innanzitutto dovrebbe dire stracciate anche i titoli di Stato, perché essendo che è un titolo di Stato, come fa? In ogni caso il punto è quello, questa è una possibilità, io do una possibilità al sistema di cominciare a prepararsi nella maniera più lineare e naturale possibile. Vuoi attaccarmi? Se vuoi attaccarmi non lo farai per i minibot, lo farai perché vuoi attaccarmi in ogni caso, cioè vuoi fare un gioco alla Berlusconi con lo spread, lo farai in ogni caso e allora bisognerà andare verso un'uscita inordinata che non penso convenga a nessuno, però a quel punto una volta che tu sarai sotto attacco, io penso che gli italiani non si fanno far fessi una seconda volta, lo sanno che dopo lo spread arriva Monti, non c'è il tesoro ma arriva Monti, per cui dato che l'han già provata una volta, io non penso che si riesca a fargliela bere una seconda volta, ma sì dai fai venire Monti. Avete già sondato la disponibilità di qualche alleato a condividere questo progetto? Beh, non l'abbiamo ancora presentato direttamente, ufficialmente, per cui no, in buona sostanza, c'è stata un'apertura importante quest'estate, motivo per cui si è iniziato a parlare, io sinceramente volevo parlarne poco di queste cose come di altre idee che ho, cioè gli ingredienti preferisco andarmeli a comprare in silenzio, mettiamo così di questo, volevo parlarne perché qualcosa devi far vedere, non puoi pensare che la gente ti creda a scatola chiusa, che hai un piano, che hai un progetto, almeno un ingrediente per far capire che effettivamente c'è la carbonara in forno o quantomeno sul fuoco, almeno la pancetta o l'uovo devi farglielo vedere. Ti sta venendo fatto. Eh sì, anche a me. Quest'estate su Libero c'è stato un discreto dibattito sulle doppie monete dove ha risposto in persona Berlusconi e il fatto che abbia risposto mostrandosi possibilista ha dato origine alla cosa. Questo dovrebbe far riflettere anche gli odiatori delle alleanze. Ci possono stare molto antipatici partiti alleati. Se ci piacessero in toto ci sarebbe un partito unico. Evidentemente se i partiti sono differenti è perché… Ne abbiamo già abbastanza del pensiero unico. Esatto. Se i partiti sono differenti è perché c'è qualcosa che non ci piace. In certi casi può esserci molto che non ci piace. Ma finché tu dici di voler fare una cosa, questa cosa va in pagina 30 del giornale perché è uno dei tanti libri dei sogni. Ogni partito dice la sua. Quando in due cominciano a dire che quella cosa sì, forse si può fare, ecco che quella cosa prende realtà. Quindi l'importanza dell'alleanza è stata dimostrata anche da queste cose. Se in due… Immaginate che cosa sarebbe successo se avesse detto Grillo che gli piacevano. Perché non è Berlusconi che fa succedere le cose. È due che fanno succedere le cose. Se ci fosse stato Grillo che avesse detto l'idea dei minibot mi piace tantissima e nel caso l'appoggeremo, sarebbe successo ancora più rumore e succederebbe se domani lo dicessero. Infinito più rumore rispetto a quello che ha fatto Berlusconi. Perché? Perché semplicemente è un partito più grosso. Quindi non per la qualità delle persone. Ci sono i freddi numeri e le cose le realizzi se ci sono i numeri. Quindi il fatto che due persone comincino a cantare la stessa canzone è una cosa che moltiplica la forza. In parte, se ci fossi stato solo io, all'epoca si parlava di Euro, non so se il concetto sarebbe passato. Funzionava perché parlavamo io e Bagnai. Quindi due persone di due impostazioni totalmente diverse che dicevano la stessa cosa e a un certo punto la gente dice, caspita, ma allora è vero. Quindi io confido che su questo e su altri passi si riesca. Diciamo una banalità, ma la politica è questo, il sistema proporzionale che ha garantito comunque il contrario di quello che sta avvenendo adesso per tanti anni in Italia, si basa proprio sulla rappresentatività dei singoli cittadini che poi si vanno a mettere d'accordo nel Parlamento che è il luogo dove si parla. Quindi su questo non ci piove. Bene, quindi Claudio Borghi grazie per essere tornato su viewblue.com. Grazie a te. E siamo sicuri, cioè tu ci dai una parola di fiducia. È ancora possibile uscire dall'Euro? È necessario uscire dall'Euro, bisogna prepararsi.